Ciao, io sono Miss Biancoala e questo è il mio canale dell'illuminazione, dove ti insegni ad applicare la legge di attrazione, e non solo quella, in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Sono anche su Instagram e su Facebook, che sono due canali qua di avanti a supporto di questo qui di YouTube. E trovi link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Specialmente su Instagram, ogni giorno posto le storie di successo del mio Team Koala, ha inoltre frasi mantra, meditazioni, riflessioni, un sacco di materiale aggiuntivo. Trovi link di riferimento cliccando qui sotto nel box informazioni. Troverai link del mio blog, dei canali social e anche del mio servizio di consulenza. Il mio servizio di consulenza, un servizio mirato e dedicato per individuare e rimuovere tutto ciò che si frappone fra te e quello che intendi manifestare. Cosa, persona, evento, circostanze. In questo momento è un prezzo speciale per un breve periodo. Trovi link di riferimento dei miei social, del mio blog e dei servizi consulenza cliccando qui sotto nel box informazioni. E ora passiamo al video della settimana. Pace, amore ed energia. Allora, se c'è una cosa a cui ho sbitonato i colioni all'universo per anni, era sempre la stessa domanda. Era del, ok ho compreso i tuoi insegnamenti, ho compreso quello che mi hai detto, ho compreso la relazione tra me e il divino, blablabla, tutte queste cose qua. Però c'è una cosa che mi sfugge, ma perché Gesù manifestava, clacca, 5 secondi, ma neanche, era istantaneo, le sue manifestazioni erano istantanee e a mia no. Nonostante l'universo mi avesse risposto diverse volte su sta domanda, io continuavo lì a, sì vabbò, ma ancora non so convinta, sì vabbò, ma sento che manca un pezzo, sì vabbò, ma non so convinta. Cioè, quindi era tipo location, zero. Il voto non era proprio alto, non era. E quindi non mi sentivo soddisfatta perché ovviamente l'universo mi rispondeva della serie che Gesù era allineato a perfezione, conosceva a perfezione la legge e la trazione e la applicava a perfezione perché era allineato fra il terreno e il divino, fra il terreno e il divino era allineato e quindi era un tuttuna, era venuto lo sposalizio, anche il dualismo e quindi riusciva perfettamente a canalizzare l'universo come unicità e a usare logicamente la legge e la trazione a perfezione. Insomma, la questione è che Gesù non aveva credo negativi e quindi mi ha ripestato quello che voleva perché non aveva credo negativi su niente, per Gesù niente era impossibile perché aveva completamente soggiogato il proprio ego. Quindi per Gesù non c'era niente di impossibile, tutto era possibile e così infatti insegnava, così insegnava che tutto era possibile, chi crede vedrà la gloria di Dio, ossia chi crede vedrà la sua manifestazione, cioè che tutto è possibile per chi crede, perché lui era nel credo, punto e basta, nel credo, punto e basta, che tutto era possibile. Ecco perché manifestava track, perché fra lui e quello che desiderava non metteva niente, quindi avveniva subito l'unificazione, avveniva subito la manifestazione, la concretizzazione, perché fra lui, ripeto, e quello che desiderava non metteva nessun credo, nessun limite, nessuna falsa credenza, bla bla bla, altre cose qua, non aveva scolto il proprio ego e quindi l'unificazione era immediata, quindi l'unificazione fra il materiale e il materiale, fra il divino e il terreno era track, immediata. Ma nonostante questo io non ero happy happy, finché praticamente l'altro giorno non ero riuscita a fare la spesa, ero qui ancora a riflettere, a dire, ma perché, 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 perché io sono testarda, cioè io ovviamente l'universo con me si prende a Valeriana, cioè date le mamma mia te prego, cioè ammazza che due coglioni, perché finché io non riesco a capire qualche cosa, non riesco non solo a capirla, poi attuarla nella mia realtà 3D e nella mia quotidianità, io praticamente, stresso, continuo a dire, no, mi manca un pezzo, mi manca un pezzo, e l'altro giorno, mentre ero nuovamente a pensare a questo, mentre ero nuovamente a rompere i zibitare all'universo, l'universo è stato tipo, snap, boh basta, e praticamente il messaggio è stato, cioè, ti voglio dire che anche tu fai manifestazioni istantenne come Giuseppe, questo basta che mi ero ti coglioni, e io sono stato tipo, e poi sto tipo, wow, è vero, è vero, è vero, ed è sempre stato sotto i miei occhi, ogni giorno, cioè, siccome io ero concentrata sulla questione che Gesù manifestava tra qualsiasi cosa, da più piccola a più grande, immediatamente, io non ho mai preso in considerazione le mie manifestazioni istantanee, ma l'altro giorno ne ho avuto la prova, l'ho postata sulle storie di Instagram, quindi su Instagram l'ho postata, avevo fotografato un albero di ciliegio in fiore, mezzo secondo, mentre facevo la foto, è tempo di mettere il telefonino in tasca, ho pensato in quel, in quel lasso di tempo, quindi, cioè, ciak, e mettere, fare l'atto di metterlo in tasca, nel cappotto, ho pensato quanto vorrei uno di quei bellissimi fiori rosa, ovviamente l'albero era alto, non ci sarà arrivata, però ho pensato quanto ne vorrei uno, in quel veramente microsecondo di atto, di pensare, mentre facevo la foto, e poi riporlo in tasca, nel riporlo in tasca, abbasso gli occhi e vedo per terra ai miei piedi, un fiore, un fiore, perfetto, come se l'avessi appena colto io, non schiacciato, non secco, non mezzo smembrato, perfetto, l'ho raccolto, ma in quel momento non ho realizzato quello che era successo, nel mentre che stavo camminando un paio di portoni più in là, ho ripetuto la frase all'universo, la domanda all'universo, e lì è stata istantanea l'unione, il download, cosa hai fatto appena adesso, cosa è successo appena adesso, le fai pure tu, le fai pure tu, cosa hai fatto, hai avuto una manifestazione, non importa se era piccola, grossa, non importa, quello che l'universo ci ha sempre tenuto a specificare è che ogni manifestazione è una manifestazione, siamo noi che poi logicamente gli diamo un valore, una scala, che ne so, Gesù che camminava sull'acqua, scala 10 nei miracoli, io che manifesto di trovare il prodotto che mi piace scontato, scala 1, ma anche 0, cioè noi gli diamo un valore, ma in realtà nell'universo, nel concetto dell'universo è la stessa scala, è sempre lo stesso valore, ogni manifestazione ha lo stesso valore, ogni manifestazione ha lo stesso valore, non c'è una manifestazione più importante dell'altra, anche perché le manifestazioni sono soggettive, non oggettive, soggettive, perché per me manifestare questa collanina, ok, può essere facile, metti che questa è una collanina, mettiamo che questa fosse una collanina di diamanti, diamantoni, da 1000 euro, per me manifestarla sono un riccone, manifestarla è facilissima, per un'altra persona invece no, non ci riuscirà in questa vita, neanche nella prossima, perché è povera, vive in un concetto, in un credo, che appunto lo tiene in quella esperienza, 3d, materiale, guardate come cambia, per me manifestare un bicchiere d'acqua è facile, quindi su una scala valori da 1 a 10 tu la metterai su 1, ma neanche 0, ma se sono in mezzo al deserto, manifesta un bicchiere d'acqua, diventa, no, scala valore 10, schizza, va, 100, 1000, quindi se vedete le manifestazioni sono soggettive, variano a secondo del proprio sentito, cioè per me un bicchiere d'acqua, manifestarla è track, mi arzo e vado in cucina, entro dentro al negozio e compro una boccetta d'acqua, ma se sto a ammazzare il deserto, ah, li cazzi amari poi diventano, ecco che boom, schizza 10, schizza, quindi la questione che noi, ad esempio persone che mi scrivono e mi dicono, ho manifestato il parcheggio, va bene, è una manifestazione piccola, piccola, soprattutto manifestare un parcheggio magari dove, in zone dove non c'è neanche se, non lo trovi neanche se lo paghi, neanche se scendi, dice ho 100 euro qui qualcuno per favore tolga la macchina e mi dia un cazzo di parcheggio, cioè, capite quello che voglio dirvi, quindi siamo noi umani che diamo alle manifestazioni un valore, ma in realtà non ce l'hanno, e se noi smettessimo di utilizzare la scala valori, che se non sapete che cos'è, ne ho parlato, trovate qui sotto nel box informazioni, trovate il link, ora se mi ricordo ci metto il link del cos'è la scala valori, se noi smettessimo di mettere sulla scala valori queste, le manifestazioni, fine, cambierebbe tutto, cambierebbe tutto, la cosa che voi mi scrivete è, perché riesco a manifestare questa cosa e questa no, perché quella metti su una scala valori, a mettere su un piede di stallo e quest'altra cosa non la metti, e il bicchiere d'acqua per te è scala valori ma praticamente zero, ma se vuoi manifestare una villa da mille e mille euro, allora boom, schizza, scala valori 10, capite, ma se ci penso un'altra persona magari manifesta qua la villa, è facile, cioè, io ho dei clienti che vengono da me che magari stanno, cioè, con l'amore, non riescono a manifestare manco per sbaglio un partner, però a livello lavorativo, a livello economico, invece, boom 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 boom, realmente, e la cosa che rilascia scioccati, è questo, cioè, c'ho sto tipo di lavoro, 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 c'ho sto tipo di risorti, ma quando si tratta di un amore, uuuuh awakened, ma perché? Perché lo mettono, in la versione lavorativa economica, la mettono su una scala valori bassissima, mentre l'amore, per le proprie credenze lo mettono sul piedistallo proprio sul top della montagna a scalore 10 quindi se dovete ricordarvi che ogni manifestazione non bollatela come questa è facile questa è piccola questa è difficile questo è quello che fa il vostro ego questa è semplice questa è difficile non esistono non esistono condizioni climatiche avverse o preferibili per un marinaio e sa naviga a tutte sa naviga nel mare carmo un marinaio provetto si forma in mezzo al mare aperto in mezzo alle tempeste non di certo sul mare carmo però sa naviga in entrambi i casi sia nella tempesta che nel coso che se c'è la calma capite? voglio dirvi ok? e dunque non bollate le mani vestibili manifestazioni come questa è semplice questa è facile questa è difficile questa è... no questo lo state facendo dal punto di vista egoico e dal punto di vista soggettivo perché torno a ripetere per me manifestare sta collanita da miliardi di euro in diamantoni è facilissimo poi un'altra persona invece no ok? mettiamo a questa queste mille miliardi di euro di diamanti quant'è bella l'agata invece questa è l'agata l'agata vabbè comunque guarda io quando ho i cristalli attivo che la madre terra e quindi questo è ora cosa praticamente il download dell'universo qual è stato? che pure te hai manifestazioni istantanee cioè se noi ci pensiamo abbiamo già una manifestazione istantanea tutti a prescindere l'avete già ed è quella dell'ossigeno voi istantaneamente state manifestando l'ossigeno eh già ma vi dico un'altra cosa istantaneamente state già manifestando le condizioni per vivere su questa terra mi sembra che non stiamo fluttuando nello spazio perché c'è la legge di gravità c'è la forza di gravità quindi non stiamo fluttuando nello spazio perché c'è la forza di gravità che ci tiene incollati alla terra quindi questa è un'altra manifestazione istantanea e continua istantanea e stai a pensare madonna quanto c'è voglia in caffè il vostro collega si alza e dice improvvisamente come animato da chissà che cos'è madonna che voglia di una pausetta in caffè tu vedi il caffettino vado a pià manifestazione istantanea io che guardo l'albero e penso quanto vorrei un fiore e abbasso lo sguardo e metto il telefonino in tasca e trovo manifestazione istantanea ora è normale che il vostro ego ve le sabota non ve le fa notare le manifestazioni istantanee e no e qui mica siamo scemi che ti facciano ti dà tutto sto potere ma che te credi che te credi il tuo ego ti direbbe che te credi che io sono scemo uè che te credi che ti facciano da ste cose uè ti direbbe il tuo ego no no non te le fa notare o se tu cominci a notarle ti dice no non vale niente non costa niente cioè non vale niente infine Gesù ne che si metteva a fare allora regà ho resuscitato Lazzaro quindi top 10 in confronto a camminare sull'acqua top 6 non si faceva a top 10 qual è stata la tua migliore manifestazione qual è stata la tua migliore no non faceva regà allora i davi star cieco top 5 camminare sull'acqua top 6 risuscita Lazzaro 10 regà cioè non sa mettere non faceva no ho manifestato che stasera c'è morcibo top 2 no regà non lo faceva assolutamente non lo faceva ma noi si perché siamo guidati al nostro ego il vostro ego scusate che sto andando nel buio perché sta scendendo la sera la sera però ho sentito bisogno di fare questo video il vostro ego vi tiene appunto in questa falsità in questa credenza vi fa praticamente di dire che vi fa mettere in una top in una cosa appunto in una scala questo si questo vale questo non vale questa questa manifestazione è una manifestazione piccola questa è importante no ogni manifestazione è una manifestazione importante in più voi siete già che manifestate non tutto ancora non tutto ma già manifestate immediatamente quando ho avuto questa rivelazione questa rivelazione è stata tipo cioè mi sono sentita anche quasi stupida dire cioè sapete proprio la scoperta dell'acqua calda ecco così la scoperta dell'acqua calda sono quelle cose che sono lì sotto i tuoi occhi ogni giorno ma io ero così incentrata sulla questione del del tutto e subito di Gesù che non ho mai preso in considerazione che pure io già faccio tutto e subito pure te fai tutto e subito e torna ripetere vi ho già detto che tutti a livello mondiale che conoscete la legge di attrazione non la conoscete l'applicate non l'applicate sia disciplinato non siete disciplinati siete svegli oppure siete ancora dei zubbi entormentati quindi non avete avuto il risveglio spirituale state già manifestando in sincro in questo istante preciso tutto quello che vi serve per vivere sta già accadendo in questo preciso istante quindi questa è già una manifestazione e che cazzo di manifestazione ragazzi se non ci fosse altro qui a pensare voglio intendo manifestare il villone o il fidanzato cioè se non c'è l'ossigeno ragazzi o se non ci sono le situazioni ideali per vivere su questa palla di terra e acqua capite cioè pensiamo già a quello quindi già sta accadendo quindi oggi ragazzi riflettete su questo dite oh ma io già faccio già mi accadono delle manifestazioni istantanee come accadevano a Gesù o altri maestri ascesi già accadono accadono e spesso e volentieri manco ci devo stare a pensare perché non è che voi da mattina a sera state a pensare intendo manifestare l'ossigeno intendo manifestare che funzioni sempre tutto su questo piano cioè no non lo fate o voi sbaglio cioè che voi conoscete o non conoscete la legge di attrazione che se siete risvegliati o non siete risvegliati voi non lo fate eppure lo manifestate capite ok chiudo qua il video chiudono perché ci teniamo a fare questa riflessione perché è stato tipo wow wow ho avuto finalmente la risposta che cercavo da anni ho avuto la risposta che cercavo da anni ed era lì 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 davanti a me e l'universo non so quante volte ci ha provato ma io ogni volta ero così fossilizzata appunto su le manifestazioni importanti sul valore della manifestazione da non capirla e non vederla assolutamente ma era lì e poi il bello era che alcune volte me ne accorgevo ma subito no non può essere c'è ovviamente quando cercate in un mazzo di chiavi la prima dici ma sarà questa no non credo e quindi vi fate tutte le altre chiavi finché ritornate no era questa davvero già capite capite così proprio ok e niente io vi aspetto qui con un prossimo video vi ringrazio per avermi seguito e mettete un pollice in su come fa so che mi piace mettete un pollice in su era tipo perché ormai è serata ragazzi oggi ho fatto tipo tre video quindi sono spompata a livello energetico spompata a livello spompata a livello energetico e niente pace amore ed energia right yeah yeah right baby ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.